bella a tutti i free readers bentornati a questo appuntamento con spliff break oggi parleremo di quello che sta accadendo anche in spagna perché sì se da noi stiamo discutendo in questi giorni in queste ore praticamente sta per iniziare la discussione parlamentare alla commissione giustizia domani proseguirà e forse mi auguro ormai praticamente venerdì arriverà poi per la discussione parlamentare all'aula della camera che seguiremo in streaming lo stesso si sta facendo in spagna ma per una diversa situazione con diverse prospettive andiamo a vedere praticamente in spagna il 13 maggio dell'anno scorso è iniziato questo iter parlamentare per discutere per valutare la legge sulla cannabis ad uso medico in spagna come ben sapete comunque ci sono questi social club che distribuiscono cannabis a tutti i livelli per gli associati la coltivazione personale comunque abbastanza tollerata ma di fatto non c'è una normativa chiara però c'è una normativa molto chiara sull'uso medico che permette la produzione alle aziende autorizzate e l'esportazione di questo prodotto che però gli spagnoli non utilizzano non possono utilizzare non è distribuito nelle farmacie quindi diciamo il livello di distribuzione di leggi ad uso medico è molto più avanti in italia rispetto che in spagna e quindi stanno cercando di adeguarla e allora è pari della discussione nello scorso anno ed il 23 giugno cioè dopo domani arriverà all'aula parlamentare anche in spagna per discutere dell'uso medico in realtà non si sa ancora bene quale sarà la normativa e quali sono le palettazioni e che cosa si andrà a valutare ma sicuramente si parla di distribuire il prodotto uso medico prodotto dalle aziende certificate autorizzate in spagna anche nelle farmacie spagnole come sarà l'accesso lo dovrà normare appunto questa nuova legge vedremo allora come si svilupperà per il 30 giugno ad oggi è fissata la discussione quindi e poi anche una votazione di questo segno di legge che però rispetto alla diciamo inefficienza del nostro governo comunque lascia un po lavorare il parlamento senza dare indicazioni ecco che in spagna sembra esci davvero una spinta governativa su questo punto di vista è una spinta dell'istituzione ad andare infini in fondo su questo disegno di legge che però ancora deve essere creato e quindi sarà una cosa che si svilupperà nella prossima settimana e vedremo di chiarire bene i punti di questo disegno di legge vedremo se contemplerà l'autocoltivazione se ci sarà soltanto la distribuzione ad uso medico come si potrà avere accesso a questo uso medico eccetera eccetera sicuramente sembra che verrà distribuito dalle oltre 22.000 farmacie presente in spagna vedremo come si svilupperà però sicuramente la votazione potrebbe andare a buon fine vedremo bella a tutti i free withers fatemi sapere cosa ne pensate e ovviamente intanto continuiamo a monitorare quello che accade anche da noi bella a tutti fino a libertà bella a tutti